Salve a tutti, sono Cristian Benuto, ex giocatore di palacanestro. Volevo lasciare un messaggio per una persona che non c'è più, per questo memorial di Egido Carbone, che per me nel mondo della palacanestro, dello sport in generale, è stato più di un presidente, è stato come un secondo padre, diciamo che io se dovrei stare a raccontare tutti i ricordi che ho con lui, non c'è un tempo perché ne ho passato veramente tanti, in particolare diciamo che iniziamo da quando avevo 17 anni ho iniziato a fare un'esperienza così per passatempo e il presidente Egido Carbone subito ha avuto la cosa di starmi vicino e anche se per me era difficile iniziare a 17 anni e giocare a palacanestro, diciamo che è stato difficile e niente, lui ha spinto, voleva che conoscessi questo sport e grazie a lui, grazie veramente a lui ho avuto delle esperienze bellissime perché ho iniziato tutto a Crotone con lui e sono partito poi a fare esperienze anche fuori. Uno dei ricordi più belli, i viaggi che facevo con lui in macchina perché io me ne andavo sempre con lui ed ero diciamo il suo figlioccio, mettiamolo così, ogni trasferta era veramente un'esperienza bellissima perché ti faceva sentire un figlio, ti faceva sentire importante, tutto. Poi niente, l'esperienza quella che abbiamo avuto, che mi è rimasto impresso è stata quella, la finale di Gioia Tauro. In casa gli abbiamo dato 25 punti, permettendo che il nostro presidente, che tutto era tranne il presidente perché era un tifoso accanito, un pazzo scatenato, però era la persona più buona del mondo, era la persona che ci stava vicino, ci aiutava in qualsiasi difficoltà, anche avendo lui delle difficoltà che gli sponsor non l'aiutavano nei mesi che doveva aiutare, quindi aveva sempre piccoli problemi ma lui era sempre presente. E niente, l'esperienza di Gioia Tauro, la finale di Gioia Tauro è stata bellissima, in casa gli abbiamo dato 20 punti e poi siamo andati là con una squadra costruita con tanti sacrifici e abbiamo vinto di 7, 8, non mi ricordo bene. Lui saltava come un bimbo, era felice come noi, alla fine sembrava che aveva giocato lui, era tutto super eccitato, super contento. Parlarne di lui in questo momento che adesso non c'è più e ricordarlo così è veramente emozionante. Volevo ringraziare tutti e dire che ho passato degli anni bellissimi nella pallacanestro grazie a lui. Un abbraccio grande a tutti e un saluto a tutti quanti.